Salve a tutti ragazzi, sono EndMill1 Oggi vi voglio far vedere una cosa Ce l'avete presente nel mio computer? Ogni tanto Era lento Un po' scadente Beh, adesso c'è una grande novità Era scadente Adesso È migliorato di prestazioni Uno si domanda Perché? Come? Vabbè, semplicemente Me lo sono comprato uno nuovo Era vecchio mai da 8 anni circa Prima o poi si doveva cambiare Voi che ne pensate? Comunque adesso ve lo faccio vedere Sia il mio vecchio computer Che sia quello nuovo Prendi a fuoco Ma come? La scatola, prendi a fuoco la scatola Allora, adesso vi faccio vedere il mio vecchio computer Qua è anche assieme alla tastiera Ormai vedete Come vedete è un po' impolverato Ormai non serve più a me Qua c'è la mia vecchia tastiera E' un po' sporca Anche qua i mouse Beh, io ripeto 8 anni c'ha questo computer E' quasi riusciuto assieme a me Vabbè Ma comunque All'epoca erano buone le prestazioni Adesso Vi faccio vedere il mio nuovo computer Uno E' curioso, vero? Siete curiosi? Se non lo siete E ciao Ok Adesso vi faccio vedere il mio nuovo computer 3 2 1 Prendi a fuoco Si, c'è un'ombra pazzesca Ok Va uscito un pochino Allora, questo qua è il mio nuovo computer Oddio, che caos Qua è collegato assieme al microfono Che come vi ricordate Ecco qua il mio microfono Quello perfetto Questo computer Adesso vi faccio vedere il monitor Ovviamente è Windows 10 Ovviamente i prestazioni molto più forti Quando registro Non c'è più il lag da computer Se sto registrando tramite Firefox e cose Come tramite Internet L'unico motivo che può andare a scatti In quel caso è il lag Comunque sono contento del mio nuovo computer Come ho detto Molto più forte E spero che lo rimarrà Per i prossimi 8 anni Spero che il mio computer vi piaccia E ci vediamo al prossimo video Ciao ciao